Dalle storiche conquiste dei lavoratori di ieri alle battaglie per il diritto alla sicurezza sul lavoro di oggi. Alessandro Barbero affronta un tema ancora drammaticamente attuale, speciale in viaggio con Barbero, lavoro e schiavitù. Questa sera alle 21.15 su la 7. Per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia, c'è Iovis Flaconcini. Con miliardi di probiotici, fermenti di generi, specie e ceppi diversi, rinforza l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica, come te. Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale, per un sollievo che dura fino a 12 ore. Momendol, spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma. Questo lo mangio, e anche questo, e anche questo, fra un po'. Teresa, non puoi cambiare così le regole del gioco. Caro, io non gioco mai. Domori è un mondo. Non mi piace. C'è ancora molto da scoprire. Questa sì, mi piace. E questo mese potete avere uno sconto esclusivo di 2000 euro sulle nostre cucine. Ah, ah, arredissima. Ercole, bullo, scheggia, rock, poeta, rubacuori. Comunque sia, è unico. Miglior cane unico. Una proteina. Mille qualità. Morando. La storia del pet food in Italia. Da subito ne abbiamo sentito la necessità. Abbiamo imparato che è bello riceverla, ma anche riconoscerla. Che è alla base di ogni relazione. Cosa significa conquistarla e averla in noi stessi? Fiducia. Tutti ne abbiamo bisogno. Oltre 10 milioni di utenti nel mondo si affidano alla sicurezza e al trust di InfoCert. PEC, firma digitale, fatturazione elettronica. Rendi digitale e sostenibile il tuo business su InfoCert.it Adrenalina o relax? Quante volte hai dovuto scegliere? Per fortuna, grazie alla tecnologia, puoi finalmente scegliere di avere tutto. Per la prima volta, l'efficienza della tecnologia full hybrid incontra i vantaggi del GPL. Nuova Kia Niro Tri-Fuel, il primo full hybrid GPL. Scoprila in tutte le concessionarie. Allora, com'è andata la crociera? Bene. Siamo saliti su Costa Fortuna per i Caraibi e abbiamo fatto quattro tuffi, uno per piscina. Sull'isola di St. Vincent abbiamo pagagliato sui kayak. Beh, sui kayak, sotto i kayak è uguale. La sera a bordo tutti i party animal, poteva mica mancare un fenicottero. Il giorno dopo a Tortola ci aspettava la zipline, è stato un volo da urlo! Poi alla baglia di antigua sfida di frisbee, un paio di volte l'ho persino preso. Siamo scesi dalla nave e questo è quanto. Costa, live your wonder. Presidente, ma ci deve sentire anche? Siamo presenti in tutta Italia e in Europa, vedo mio. Che meraviglia, allora sto tu, facciamolo insieme. Amore in Sicily by Car, in tutta Italia. Quando la presentazione è brillante, ma il tuo volto un po' meno. Red Care, prodotti di cosmetica di alta qualità, a prezzi scontati e subito a casa tua. Red Care, i tuoi farmacisti online. Dalla natura della Mongolia, cashmere ultra fine, naturale, morbido, leggero, quattro stagioni, falconeri, puro cashmere. Salute è voglia di star bene. Con Immagina adesso di Generali puoi avere check-up periodici e accesso rapido alle visite. Contatta subito i nostri agenti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it. Generali, partner di vita. Cara Anna, qui è tutto tranquillo. Oh, ecco i ragazzi. Ciao mamma. Ciao, dov'è papà? Arriva. Qui va tutto bene, con affetto, la tua casa. È bello sapere che a casa va tutto bene, con ringa. Ambarabacci, ciccocò, tre cremini sul comò. Erano il più grande amore della figlia del dottore. Il dottore li mangiò, ambarabà, ciccocò. Domori, e il cioccolato è un mondo. Ti ho creato per pulire e rinfrescare il nostro bici. Pulisci, rinfresca e igienizza. Notevole. Vero? Ma c'è un modo migliore con Breath. Breath Power Active. Ad ogni risciacqua attiva il suo potere per mantenere il tuo bici pulito e igienizzato per tutto il giorno. È indispensabile. Prova Breath Power Active. Scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani. Il suo gusto unico ha fatto innamorare il mondo. Grana Padano è sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali. Milano Cortina 2026. Sintomi del raffreddore e dell'influenza? Taki Flu, TASC. A portata di TASC. Pronto da prendere, pronto ad agire. Combatte i sintomi da raffreddamento e decongestione alle vienasali. Taki Flu, TASC. E la giornata continua.